Un caro saluto amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, vi parlo di mercato naturalmente sempre qui ripreso dal mio ricondizionato Regen, i cellulari ricondizionati perfettamente funzionanti che vi in qualche modo tutelano da spese folli. Dove trovarli? Ovviamente da Regen Store via online www.regenstore.it oppure direttamente in Via Italia 3 a Cusano, Milanino. E potete anche beneficiare oltre che dei cellulari della tecnologia PC, tablet e tutto quello che volete voi con gli sconti GLR e GLR TV. Mercato. Mercato. Allora da quello che ho capito, no perché qua c'è sempre sta solita fretta, no? Allora, io vorrei ricordare a tutti che il mercato inizia il primo di luglio ufficialmente. Quindi non è che adesso bisogna fare tutto subito. L'Inter ha già fatto delle cose subito, no? Zieliński, Taremi. E certo cerca di farne altre prima possibile. Oggi è stata una giornata in cui a sorpresa si è ancora visto Aleandro Camagno in sede all'Inter, mi dicevano alcuni colleghi, e quindi vedete che anche per quanto riguarda i rinnovi di Inzaghi e di Lautaro che verranno annunciati a breve, si procede piuttosto spediti. Il fatto che Lautaro sia in Coppa America, ricordo, può firmare tranquillamente anche Camagno il nuovo accordo. Però è anche bene scadenzare i comunicati ufficiali. C'è appena stato quello di Barella che mi ha reso felicissimo, come avete saputo. Gli ho dedicato un video editoriale. È un sogno avere Barella fino al 2029. Beh, è un sogno al di là del contratto e vi ho spiegato perché col calcio che corre così veloce. Però per chi ha fretta posso dirvi che come vi avevo anticipato, a usilio e a caccia del solito tesoretto, tant'è che non passa giorno senza che emissari del Venezia, del Palermo, ma anche di altre squadre, di A o di B, facciano capolino in viale della liberazione all'asse di Inter. E qualcuno in uscita c'è. Ovviamente tutto questo è volto attraverso i giovani a raggranellare quella trentina di milioni che potrebbe essere raggranellata magari con la cessione unica di Valentin Carboni, ma sapete che nel quadro della sostenibilità più soldi incassi col fondo, prima era così anche con Zanga, più teoricamente hai risorse da spendere sul mercato. Diciamo che le operazioni in entrata, che mi sembrano più vicine, poi bisogna concludere degli affari, però le cose di cui si sta parlando in questo momento riguardano entrambi il Genoa, è l'asse inter-Genoa, quindi parlo di Gudmundson e di Martinez. È bene che sappiate che l'accostamento al discorso Tiago Motta-Milito di tanti anni fa non ha alcun senso, perché queste due, per il portiere spagnolo Martinez e per l'attaccante islandese Gudmundson, che hanno ovviamente costi diversi, portata diversa, saranno comunque due operazioni separate. Quindi separato tutto, separate le commissioni, separate gli accordi, separate le formule, perché prima di tutto Gudmundson aspetta volentieri l'Inter, ma l'Inter deve sistemare il discorso Arnautovic, se vogliamo anche Sanchez e Correa, sono discorsi che potrà sistemare soltanto dal primo luglio in avanti. Quindi Gudmundson viene dopo. Sul discorso del portiere, essendo praticamente dietro l'angolo la scadenza dell'accordo con Audero e quindi il suo ritorno alla Sampdoria, invece si può parlare subito. E l'Inter sta parlando subito. Mi pare ormai abbastanza acclarato che il preferito sia Josep Martinez. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che Bento non c'è più? No, per carità, Bento c'è ancora. Il discorso è che lo vedo un po' simile a Trubin un anno fa, o se volete a Vicario anche un anno fa. Cioè cominciano ad avere dei costi questi giocatori per il ruolo che poi dovranno avere. Ricordo che parliamo del secondo portiere destinato casomai a prendere più avanti il posto, come immaginiamo, di Sommer, ma non immediatamente. Quindi è logico che il discorso del secondo portiere sia urgente fino a un certo punto, però l'Inter si vuole sistemare. E credo che Josep Martinez sia effettivamente, in questo momento, il candidato numero uno. Poi sapete, nel mercato le cose cambiano ogni giorno, come ci insegna il buon Nico Schira, e vi invito sempre a seguire il suo canale. Quindi Bento a oggi mi sembra un'operazione sempre nel quadro della sostenibilità, destinata a non essere portata avanti. Peccato perché l'Inter ci pensava l'estate scorsa, ci ha pensato, diciamo, adesso, che sta per partire quest'estate, ma, insomma, dall'altra parte, un portiere convocato in nazionale brasiliana comincia a costare troppo. Ecco, il vero mistero è quanto costi Josep Martinez, perché ancora non c'è, in realtà, una richiesta ufficiale del Genoa, perché è chiaro che se per Bento ti sparano 30 e per Martinez ti sparano 25, allora si allarga il casting ad altri candidati. Però mi pare di capire che, per quelli che sono i rapporti col Genoa, è soprattutto la disponibilità del Genoa ad accettare contropartite da parte dell'Inter, da individuare, ma quando già ti dicono da individuare è una buona cosa, perché, insomma, ci sono anche quelle situazioni in cui ricorderete, no, che a un certo punto la Roma voleva solo Zaniolo per dare Nainggolan, lasciamo perdere poi come è andata, sia per Zaniolo, devo dire, sia per Nainggolan, ma lei non potevi scegliere delle contropartite, perché Ausilio ci provò in tutti i modi ad indirizzare la Roma su altre contropartite tecniche, ma la Roma voleva soltanto, solo e soltanto Zaniolo. Ecco, qui mi pare che ci sia la disponibilità del Genoa, ovviamente, a parlare. Ci sarebbe anche un altro portiere, che è stato la Sampdoria, che è comunque nel Mieneralliter, figlio di Dejan, Filippo Stankovic, insomma, si può parlare molto su Joseph Martinez, e quindi è bene cominciare a farlo subito. Il discorso di Gudmundson, invece, come vi ho spiegato, è diverso, perché il discorso di Gudmundson, che immagino costi di più di Martinez, o perlomeno il Genoa vorrà più soldi, è un discorso con il quale, per intavolare il quale, ovviamente serve che l'Inter prima sistemi, diciamo, le punte in esuvero. Vabbè, Sanchez non lo consideriamo, Correa, immaginiamo, non credo a un derby turco, come scrive qualcuno per Correa, tra Kalatarasvara e Fenerbahce, magari. Però io non sono così negativo, magari mi sbaglio io, sull'idea che poi alla fine, in qualche modo, Correa si piazza. Comunque, può essere sempre un attaccante che i numeri li ha e che ha solo bisogno di trovare fiducia in se stesso. Quindi, magari, altrove può anche trovarla, questa fiducia. Però, ovviamente, se tu vuoi far posto a Gudmundsson, devi convincere Arnautovic, il quale, anche lì, interessi dalla Turchia, dalla Fiorentina, ma non è questo il momento in cui Arnautovic è disposto a dirti che si muoverà. Secondo me è disposto a muoversi, ovviamente, però non subito. Per il momento è giusto che faccia muro, lo farei anche io al suo posto. La formula di Gudmundsson è una formula certamente diversa da quella di Martinez, può essere, da un certo punto di vista, alla fine dei conti, certamente più costosa, però da quanto mi fanno sapere da Genova, anche il Genoa, tutto sommato, non disdenirebbe un'operazione alla frattesi, cioè prestito il primo anno con obbligo di riscatto successivo, perché anche al Genoa, che credo che in questo bilancio abbia già contabilizzato la passata cessione di Dragusi, non farebbe schifo mettere in bilancio Gudmundsson, la cifra grossa di Gudmundsson nel prossimo anno, e questo è un altro vantaggio per l'Italia. Ecco perché, per tutta questa serie di motivi, che sono anche fiscali, è bene separare queste due operazioni sull'asse Inter-Genoa. Il portiere mi sembra più esperibile, più facilmente esperibile, sempre che poi dall'atletico paranense non arrivi un'apertura entusiastica per Bento, e allora ci si ferma, ma io in questo momento dico con molta onestà, in questo momento mi sembra che Bento, come Trubin, come Vicario, siano destinati ad essere così, stati monitorati a lungo, ma non arrivare all'Inter, e che invece il vice Sommer possa davvero essere lo spagnolo Jose Martinez. Dopo si parlerà di Gudmundsson, però ecco, una cosa è chiara, gli obiettivi sono stati individuati in una giornata in cui dall'altra parte del Naviglio sono stati un po' assaliti dallo sconforto, perché così l'hanno interpretata i colleghi milanologi, se avete sentito insomma questa grande apertura pubblica a 70 giornalisti, il tendone bianco a Milanello di Ibraimovic, all'ilà che ovviamente non può che parlare bene di Fonseca, anche se non l'ha scelto lui, ecco però qualcuno si aspettava oggi l'annuncio di Fonseca e magari parallelamente qualche passo in avanti per Zirze, magari strategia, magari è tutto già a posto, magari il Milan pagherà le commissioni, ma oggi da quanto ricevo dai colleghi milanologi non è proprio una giornata favorevole, perché le parole di Ibra in qualche modo allontanano almeno al momento Zirze dal Milan, questo perché lo dico? Perché quelli dei nostri che non si rendono conto che stanno vivendo un periodo fantastico, ecco se proprio non se ne rendono conto, ecco vorrei che per rendersene conto, ecco se ne rendessero conto guardando altrove, perché altrove non sono per niente contenti, poi come sempre siamo a giugno e da qui ad agosto può cambiare il mondo. Ciao a tutti ragazzi, viva l'Inter, quindi asse Inter Genoa, ma ripeto Martinez e Gurmu sono operazioni separate, nulla a che vedere con Tiago Motta Milito, tra l'altro era il compleanno del grande principe proprio ieri e quindi tanti auguri al grande principe del triplete leggenda nerazzura per i suoi 45 anni. Ciao a tutti. Ciao a tutti.